E' da tanti anni che si parla di radiofrequenza, diciamo che siamo alla terza generazione di radiofrequenza senza tediarvi troppo con la fisica, che so essere ostica specialmente durante il fine settimana, cercherò di spiegarvi cos'è cambiato. La terza generazione è questa, mediante una serie di elettrodi che possono essere comandati ed essere fatti diventare più o meno a seconda del cervello, del software della macchina, ecco che io posso comandare la diversa profondità. Perché? Perché se io attivo questi elettrodi in maniera sequenziale e possono essere un meno e cinque più oppure tre meno e tre più, cosa succede? Sono come le corsie di una strada.